Ciao ragazzi Ma dove vai? Ma dove va l'altro? Quello lì, oh Ciao ragazzi Un po' storto Un po' storto Un po' storto Lasciali qua Non c'è credo Guarda, l'ha messo nei equilibri di tutto l'altro Erika, tu eh Sali da là Lele, salta al lago, saltalo Questa è la sua YouTube Ciao Siamo in montagna, guarda qua Che ti sentirebbe in serra? Ti sento a YouTube? E qui dico che mi hai Vedi Poi Ok Ok Lele Non lo sai perché lo sa questo balletto? Perché ci sta anche su Fortnite Guarda VORARE Lo scavo di dietro Questo va su YouTube YouTube Italia Allora le mie scarpe e il mio outfit Allora Il mio outfit Allora Allora Scarpe Asics E io ho Le Nike Nike Poi Calcini fila Calcini di non so che Pantaloni della Nike Della Nike Allora Scarpe 80 euro Calcini 5 euro Maestro della NASA classica 20 euro Pantaloncini invece 30 anche loro Felpa Sempre NASA 50 Più il capelletto 80 Il totale quindi 100 Più di 200 euro Purtro E quindi Il outfit Costa più di 300 euro E il mio? L'era il mio? E' il mio? E' il mio? E' il mio? E' il mio? Quanti minuti? E' il mio? 27 Allora Questo è un uccello Guardate E' un uccello Piccolino Guardate Questo è un uccello E' un uccello E' un uccello E' un uccello Piccolino Ma è finito Tranquil Lele Lì Salite Ciao 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 Passiamo sul uccello? Passiamo Peppa Pig E' Peppa Pig E' Peppa E' Peppa Pig Allora si arriva a stare Guardate Guardate Gua Gua Guardate Gua Nel blu Ti pinta di blu E gli sei Guardate Ciao 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 Ciao